ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come spesso capita con una grandissima puntata dedicata alle vostre collezioni di orologi dico grandissima perché perché ho buttato dentro un bel po di video ora non so quanto verrà lungo la puntata perché non ho controllato bene quanto lunghi sono però mi sembra un 66 video messo se non sbaglio poi se qualcuno viene eliminato pace bene intanto io vi ho detto che c'era come partecipare lo sapete no andate il video di 7 minuti al massimo su itransfer.com a me mi inviate il link e io lo scarico e siamo tutti contenti lo metto in una cartella lì per mese no maggio giugno luglio agosto e poi dopo li vado a spulciare in ordine temporale ma in ordine temporale di mese perché se uno mi romanda il primo maggio ci sta anche che pubblico prima uno che è stato mandato il 31 maggio perché se non è una cartella mese per mese è un po complicato se non fare giorno per giorno tante cartelle no comunque detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo nido ocean star gmt shark squalo perché perché ha questi denti così acuminati gli indici sarebbero no io che io addosso con questo cinturino nato che è originale suo nella scatola c'è anche questo cinturino nato che ci piace tanto ci piace tanto a parte questo passante qua che rimane da solo solitario qua non ci arriva io quasi quasi lo taglierei perché non serve a niente e poi ho scoperto un nuovo sistema no ho impostato la sfera gmt no la sfera gmt non l'ho impostata perché questo qua sarebbe un gmt traveller no di quelli che si regola l'ora saltante quella singola mentre la sfera gmt gira tutte assieme io invece ruoto semplicemente la ghiera basta che sposto una volta che so l'orario di new york una volta sulla lancetta rossa la ghiera con l'orario di new york e gli ecco che siamo a posto così io so quando apre la borsa di new york e tutto il resto è molto molto semplice utilizzare un traveller gmt anche come local gmt detto questo partiamo con il primo video in quanto vedo che la barra spaziatrice sempre lì pronta poi insomma dobbiamo andare un po veloci perché io alla fine vorrei andare a vedere i video dei gattini su instagram quindi dobbiamo fare veloci fuoco ciao davide ciao soddisfatto collezionista di eterna è tornato grande no non è la foto di mia figlia ti sto portando indietro nel tempo in un tempo felice per eterna quando brigitte bardo era la testimonial del marchio ancora più indietro assieme a gina lol brigida addirittura negli anni 50 quando testimonial era un famoso rapper scusa direttore di orchestra passiamo nel 1956 cento anni dalla fondazione quando eterna poteva vantarsi di essere assieme a rolex e omega una delle tre più grandi produttrici di cronometri quindi ti presento gli orologi di allora quelli che adesso possono essere considerati dress watch ma che in un'epoca in cui gli uomini si vestivano abitualmente in giacca e cravatta erano sostanzialmente degli every day watch il primo che vi mostro risale ai primi mesi del 1956 è un orologio in oro rosa 18 carati a carica manuale extra piatto e di dimensioni per l'epoca jumbo con un diametro di 37 mm mi è arrivato intatto nella sua bellezza mamma mia oltre 60 anni nascosto in qualche cassaforte di un gioielliere solo lavato e revisionato con i complimenti dell'orologiaio per le condizioni ho sostituito il cinturino originale rigido e mummificato con uno simile in cocodrillo lucido mantenendo la fibbia originale un semplice every day watch degli anni 60 in acciaio automatico senza data 34 mm di diametro mi piace per il suo quadrante linen che mostra una delicata trama simile a quella di una tela di lino c'è un altro orologio in condizioni impeccabili il numero di serie lo fa datare al 1965 orologio in oro giallo a 18 carati diametro 35 mm è un modello della serie 3000 la più prestigiosa di eterna in quegli anni certificato cronometro ora no a parte i complimenti per gli orologi che poi vedremo anche quanti ne è ancora perché mancano ancora dei minuti si vede qua la corona con le cinque con le cinque con le cinque sfere del cuscinetto no però sul primo quello in oro la corona era liscia io mi fido di te perché hai detto che le trovate in una cassaforte quindi esistono anche degli eterna con la corona liscia la corona di carica senza le cinque sfere suppongo la serie 3000 è mossa dal calibro 1466 progenitore dell'eta 28 92 ma lo rendeva l'orologio con data secondi al centro e rotore periferico più sottile al mondo sul fondello campeggia lo stemma della famiglia shield proprietaria di eterna ed eta che era pannaggio solo dei cronometri più prestigiosi il centenar 2000 del 1967 classico cioccolatino di forma quadrata 30 per 30 millimetri versione aggiornata per movimento e quadrante nel classico centenar quadrato del 1956 in oro giallo con quadrante argente spazzolato verticalmente e indici che fanno già pensare agli anni 70 che spettacolino che c'è ragazzi un'altra bellezza arrivata intatta dagli anni 70 con l'etichetta adesiva ancora sul fondello e il sottile cinturino di lucertola fa parte della serie centenar inizialmente prodotta nel 1956 per i cento anni di eterna ma poi ripetuta con la serie 61 e 71 ha un diametro inusuale per l'epoca 37 mm la corona è incassata un quadrante tipico degli anni 70 e di un magnifico colore grigio antracite soleil con grossi indici applicati che alla luce del sole brillano come piccoli diamanti e sfere corte tozze eccolo qua eterna sonic praticamente in questo orologio qua c'è il calibro realizzato dalla esa che era un consorzio praticamente nel quale tutte le case svizzere a cavallo del 1970 hanno iniziato a realizzare i simpaticissimi calibri al diapason perché da prima è stata bulova a inventare il calibro al diapason poi l'ingegnere di bulova si è trasferito in svizzera ed è andato a lavorare anche per esa quindi ci sono stati anche dei problemi di brevetto hanno fatto alcune modifiche per poi dopo liberarsi anzi hanno fatto un accordo con bulova per poter realizzare questi calibri qua e ognuna di queste case svizzere eterna longin omega zenith ma mettetene tutte quelle che vi pare a voi e vedrete che esisteva un modello avevano incassato questo calibro qua della esa al diapason o eterna lo chiamava sonic longin lo chiamava oltronic omega non mi ricordo come lo chiamava però sempre tutti con onic electronic voi ci fate caso quando trovate quei calibri lì sono questi qua al diapason è interessante la classica forma degli anni 70 come il mio oltronic assomiglia un po al mio oltronic come forma eravamo in quel periodo lì primi anni 70 il calibro a diapason era costruito parzialmente modificato da esa su licenza bulova diametro 38 mm cassa cuscino con bracciale in acciaio dal disegno particolare splendido quadrante blu cangiante e lancette dei secondi a contrasto di colore rosso bello bravo bis modello 3003 della metà degli anni settanta comperato nos con scatola contro scatola e garanzia firmata al momento del mio acquisto il movimento 1504 è un'evoluzione del 1466 e del 1500 a 28.800 alternanze che all'epoca erano definite fast bit l'orologio è in acciaio con un bracciale integrato diametro di 35 mm e spessore di meno di 9 mm ha un bellissimo quadrante a strisce verticali blu estremamente luminoso e cangiante orologio databile alla fine degli anni 70 in questo periodo eterna ha iniziato a fornire i propri orologi con calibri eta non modificati questo incassa un 28 24 diametro 35 mm lunetta scanalata bracciale che definirei semi integrato sì qui siamo in pieni anni 80 questo modello si chiama galaxis ed è stato presentato nel 1985 diametro 37 mm super piatto con calibro al quarzo lunetta in zaffiro bracciale con chiusura scomparsa ne esistevano anche versioni più preziose in oro con bracciale con inserti in zaffiro un vero dress watch di quegli anni che spettacolini un orologio della fine degli anni 80 inizio anni 90 ancora inesperto l'ho acquistato pensando a un nos degli anni 60 ma malgrado lo stile super classico e il diametro di 34 mm il cinturino da 20 mm e il fondello trasparente che mostra un calibro eta 28 24 con il rotore eterna dorato dimostrano che non è un orologio degli anni 60 70 esatto pre bello questo modello degli anni 90 fa parte della serie l'esisto ric e si chiama 1935 è il classico orologio di forma rettangolare in voga negli anni 30 simile al tank di cartier o al reverso anche nelle dimensioni contenute largo 26 mm per una lunghezza da ansa ad ansa di 40 mm al polso veste bene con un'eleganza senza tempo anche sul mio polso da 19 centimetri e mezzo sta bene sta bene anche questo modello fa parte della collezione l'esisto ric è il 1948 quell'anno è stato importante per eterna perché l'anno in cui ha brevettato il rotore su cinque cuscinetti a sfera che sono diventati il simbolo del marchio questo modello è molto simile all'originale anche nelle forme contenute con un diametro di 33 mm come gli anni 40 che piccoli al grado alle dimensioni penso che anche questo orologio sia indossabile senza problemi e si elegante nella sua semplicità e per oggi questo è tutto ciao davide alla prossima ciao grande con l'amico qua ci eravamo incontrati al watch is of italy nel 2023 mi sembra però mi aveva già mandato un video prima di quell'incontro lì sempre sugli eterna e adesso ce n'ha rimandato un altro io non so sinceramente dove vai a pescarli questi orologi come fai a trovarli così in ottime condizioni nos fondi di magazzino poi il bello che c'è tutta la storia dietro si va a cercare anche i cataloghi no un po come vorrei fare io con l'on jint in video perché ti proprio veramente li stai prendendo orologi come si deve io mi accontento sono un pochino più popolare un pochino più da paesano ora abbiamo parlato anche di eterna in uno degli ultimi video parlato perché ne ho parlato del marchio perché sta un po si sta un po perdendo un attimino ci sono magari dei problemi di a livello di proprietà che se non investono se non decidono cosa fare come muoversi il marchio ci tende tende a non apparire a non apparire a non essere presente nel marketing e tra gli passaparola degli appassionati sono un pochino fermi no però è sempre un problema di proprietà ma la proprietà non è non significa eterna è sempre quella è sempre lì in svizzera con il suo il suo headquarter le sue cosine cambia la proprietà vuol dire che sopra passano delle persone dei personaggi delle aziende delle holding che è di volta in volta decidono prendi quella strada lì vai quella fai per quella strada la però eterna è sempre lì è lì che aspetta che qualcuno veramente la prenda e riesca a valorizzare il suo heritage quello che sanno fare quindi anche agli amici che magari a volte dicono a metterla ora sei un po dimenticate magari non prendiamo gli orologi di eterna in realtà secondo me è quasi quasi adesso il momento di prenderli dico nuovi semi nuovi secondo polso li trovi in negozio nel momento in cui magari riesce a portarle via con un miglior prezzo del solito anche nell'usato piuttosto che attendere che qualcuno poi la rilanci e faccia il botto abbiamo visto i vari posizionamenti di mercato poi come va a finire no allora io non sappiamo fra cinque anni tre anni eterna incomincia a fare degli orologi che li porta su di prezzo a 5 6 7 mila non ci arriviamo più poi chi li prende adesso magari fortunato perché l'essenza di eterna è sempre quella comunque amico mio complimenti perché c'è degli orologi che mi fanno invidia e soprattutto c'è una gran bella passione complimenti complimenti prossimo video ciao davide ciao james di nuovo james ti ho mandato un video qualche mese fa della mia collezione bravo c'era un code 1159 un overseas che sto usando oggi giorno di pasqua e anche un breguet tradition avevo anche un rolex gmt master 2 che all'epoca avevo appena comprato ma alla fine non lo indossavo mai o poche volte e quando lo indossavo tutti mi guardavano in ufficio allora mi dava fastidio ma l'ho venduto con i soldi orco canto questo parmigiani fleurier top ecco fatto l'esempio dell'amico che si vende il rolex gmt master 2 per prendersi il parmigiani fleurier fleurier cosa cosa ti si può dire che se veramente l'essenza cioè quello è l'archetipo quello che dovrebbe essere un appassionato cioè piuttosto che rolex che poi magari ci caldo anch'io ogni tanto che sono fatti bene sono belli orologi ma sti qua parmigiani siamo qua nell'alta orologeria quasi cioè complimenti dai sentiamo cosa c'è da dire che secondo me è molto più bello molto più speciale e certo speciale sicuro e che nessuno conosce quando lo metto in ufficio nessuno lo guarda ma la ghiera trovo molto bello nello stesso modo che amo molto l'omega club master ma anche io anche molto questa ghiera il quadrante molto bello stile stilo che io c'è non so se è vero che io c'è ma comunque molto bello interessante anche il nuovo movimento finito bene il rotore di oro 22 carati il movimento finito abbastanza bene quello dell'overseas è fatto meglio ma comunque costavo anche di più e basta niente il mio aggiornamento è bravo grazie a presto e buona pasqua anche se so che uscirà questo video un po in ritardo forse già buon natale come poi rivederci e saluti a tutti gli amici del canale saluti agli amici del canale ma come buon natale buona pasqua fate meglio non dire niente così siamo neutri no diceva una rivederci cavoli grazie per l'aggiornamento perché è interessante già nella precedente video con tutti quei orologioni che avevi mostrato con questa pronuncia poi particolare mi ricordo facilmente di te era spettacolare il parmigiani qua è tanta tanta roba bellissimo la secondina a ore 6 con la sfera doppia lunga che fa il giro anche di sotto mi piace interessante come il grandata la complicazione grandata poi il resto le finiture l'avete viste sono oro orologi a tenere in considerazione veramente perché poi di solito uno quando vai sugli orologi costosissimi no come questo come dice un'altra volta e vai a vedere cosa offre breguet cosa offre montblanc quegli altri e ci trovi degli orologi classici veramente che non non mi stuzzicano per niente parmigiani uno di quei brand che fa orologi fatti bene complicati ben rifiniti con dei calibri di manifattura come si deve e anche belli e anche belli sportivi acciaiosi belli come mi piacciono a me ci vuole anche ci vuole anche un certo una certa dose di coraggio è nel vendere un gmt master 2 per prendere un parmigiani cioè questo dimostra proprio che sei slegato da qualsiasi logica commerciale c'è indipendente non ti fai influenzare o meglio ti fa influenzare perché l'hai venduto perché in ufficio ti guardavano il rolex e questo secondo me non è un buon motivo perché un po me lo guardi un po me lo guardi poi scappellotto e basta dopo ci fai l'abitudine no però andare a scegliere un parmigiani e tanta tanta roba bravo complimenti prossimo video ciao davide sono mangi dal trentino innanzitutto grazie seguo sempre il tuo canale e soprattutto la sera quando torno dal lavoro è bello farsi qualche risata imparare però qualcosa di sempre di molto interessante sugli orologi brava innanzitutto per ricalcare diciamo il tuo stile volevo presentarti l'orologio del giorno che è del mio compagno questo fortis flieger edizione red arrow dell'aviazione inglese è un orologio che il mio compagno indossa da fortis ha ricevuto qualche mese mai visto da suo nonno ecco poi ti presento oggi la alcuni orologi me di mio fratello in particolare inizio con i nostri ultimi acquisti il mio ultimo acquisto questo omega speed master professional con vetro zaffero calibro 38 61 che dire orologio che dà tante soddisfazioni che così per citare appunto una delle frasi più ricorrenti del canale insomma veramente un bellissimo orologio mio fratello si è comprato questo tudor black bay 39 mm con movimento di manifattura su primo tudor e con questo quadrante blu molto bello passiamo alla famiglia dei rolex qua ti presenti inizio con il rolex di mio fratello un submariner senza data simpatico eccolo qui molto bene proseguo con un rolex oyster 34 che è di mia mamma con quadrante blu appostato un paio anzi diversi anni fa ormai e questo invece c'è il mio rolex che mi hanno regalato come regalo di laurea triennale e quindi un dei just 31 con datario e con numeri romani mamma mia e dulcis in fondo il air king e gol fa 34 degli anni 80 quindi un orologio vintage che però mio papà ha messo e mette quotidianamente ti volevo chiedere un tuo parere perché io mio fratello abbiamo ereditato dai nonni paterni due omega de ville questo era quello è quello appunto di mio nonno mentre questo quello di mia nonna anche questo un de ville con vedi questo questo quadrante appunto molto piccolino purtroppo non abbiamo tante informazioni sono entrambi orologi che sono stati revisionati funzionano benissimo ma volevamo chiedere a te insomma se hai qualche informazione in più su questo modello dato che credo che anche tu abbia acquistato un de ville di recente ecco se mi dispiace ma cioè non sono proprio in grado di dirti niente de ville è una famiglia che spazia da dagli anni 60 fino a oggi non è che uno può da così anche da lontano senza averlo per le mani cioè se lo studiassi lo aprissi io potrei guardare magari il che calibro ha il numero di serie dare un'occhiatina alle cosine varie studiare cioè e poi fare un resoconto ma come è in grado di farlo chiunque cioè non è che sono un esperto io lo apro lo studio guardo brigo metto giù tutta una serie di linee che mi riconducono a un minimo di storia di questi modelli così io non so dirti niente de ville è una famiglia dell'omega nata in quegli anni lì morta c'è morta continua anche oggi quindi mi è impossibile non è che devo sapere tutto io ragazzi del ricordo proseguiamo adesso con i bomber si è sappiamo che non sei un fan sfegatato ma belli vi piacciono l'anno scorso o due anni fa per meglio dire abbiamo acquistato sia io che mio fratello questi riviera questi riviera vedi due referenze leggermente diverse questa forse un pochino più classica con appunto tutte le ondine del mare come insomma spero che si riesca a vedere dalla videocamera e che appunto sono degli orologi che hanno fatto per il cinquantesimo anniversario punto del riviera nel 1973 e in più mio fratello anche comprato diversi anni fa questo cappeland questo cronografo con movimento di manifattura calibro 7753 con 28800 alternanze e come di manifattura e 7753 è un età un vagiù o sellita ma non è di manifattura capeland si dice non cappeland capeland capito e a questo proposito insomma vogliamo approfittare chiederti appunto cosa ne pensi del riviera e anche di questo cronografo se lo conosci e se insomma qual è la tua opinione a riguardo ecco e niente la mia opinione a riguardo è che tra i due riviera che hai mostrato preferisco quella sinistra quadrante con le ondine esteticamente così poi per il resto riviera una famiglia che cioè sicuramente quelli che sono le ultime referenze che sono a catalogo ora sono quelle che preferisco hanno anche ridotto i diametri e sono più più appetibili per il mio gusto io questi qua non li comprerei non è che mi fanno impazzire esteticamente però sono belli li vedo tra l'altro con il cinturino in gomba così in caociu e gli da anche un pochino più di personalità rispetto al solito bracciale integrato che siamo abituati a vedere e che a me sinceramente ha stufato tra questi due ripeto quello con la data ore 3 sicuramente e quadrante il quadrantino così più lineare anche se ci sono le ondine lo preferisco l'altro con il quadrante così a cerchi concentrici la data tra ore 3 ore 4 non è che mi fa impazzire tantissimo e quanto riguarda il cronografo non lo conosco non lo conosco sicuramente dentro c'è un 77 53 di fornitura normalissimo esteticamente non mi fa impazzire è un orologio come tanti altri cioè uno perché deve scegliere puoi scegliere buon mercè puoi scegliere maurice lacroix puoi scegliere frederico stant e più o meno se si equivalgono come marchi come manifattura come finiture uno vale l'altro non è che sbagli che dice oddio cosa ho comprato mi devo suicidare no buon mercè fa belli orologi poi ti presentiamo adesso qualche orologio vintage in particolare questo zenith di mio papà zenith stellina e molto molto sottile leggero molto diciamo con un quadrante molto pulito e mio papà l'ha messo lo metteva abbastanza spesso in passato adesso insomma non più tanto però comunque ha detto che ha è molto preciso ed è leggerissimo anche come caratteristica ecco poi un per seo per seo questo per seo acquistato sempre da mio papà nel 2004 orologio dei ferrovieri svizzeri e come vedi anche questo alla lancetta dei secondi nel quadrante piccolo in basso e con cinturino in cuoio e ecco purtroppo anche di questo orologio non ho tante informazioni però insomma anche questo abbastanza sottile abbastanza leggero e direi con una buona leggibilità ecco io non lo so non è che sono ferratissimo orologio degli dei ferrovieri svizzeri cosa significa io non lo so acquistato nel 2004 ha preso nuovo quindi fa parte della nuova delle nuove linee di per seo che non cioè non è che forniscono le ferrovie dello stato o le ferrovie svizzeri al momento che io sappia un conto sono quelli assegnati del passato ma per essere assegnati cioè dovranno avere il numero di matricola dietro quelli hanno senso di essere considerati orologi per i ferrovieri queste potrebbero essere riedizioni commemorative celebrative commemorative no perché commemorative qualcosa per un morto celebrative di un dato orologio del passato allora sia senso poi se noi andiamo a vedere a per sé o di ora di adesso nel catalogo ha degli orologi che sono veramente come dire posso dirlo in francese vomitevoli perché ha delle copie dei rolex delle copie di altri orologi e poi anche qualche orologio interessante che si rifà al proprio passato però una commissione di stili e di intenti che non che cozza una con l'altra cioè l'ideale per una azienda così storica no come per seo sarebbe avere seguire una linea propria no andare per la propria strada buttarsi su un determinato ambiente ferroviario celebriamo l'ambiente ferroviario poi possiamo prendere un pochino di deviazioni qua e là ma non fare copie di altri orologi come può essere il submariner non ha senso non ha senso capito mi piace per per seo è proseguiamo adesso con questo junghans tedesco orologio automatico max bill molto minimal appunto molto leggibile senza datario e diciamo anche questo orologio direi sottile anche come anche come come ha un bel quadrante si vede abbastanza bene però comunque rimane un orologio molto snello ecco si si poi uno dei forse orologi più comuni e più visi diciamo di cui si vede di più sul tuo canale questo emilton khaki feed con carica manuale e con questo cinturino nato verde militare ecco certo c'è ne abbiamo già visti tanti però comunque un orologio come dire che fa il suo ecco fa il suo sfidando la sorte sperando di aver comunque preso dei top con uno due tre stelle forse no sfidiamo la sorte con questo possibile cioffek alert che è questo capital acquistato direi quasi più per sbaglio dal mio fratello che infatti vorrebbe rivenderlo e a questo proposito ti chiede se interessato perché potremmo anche contrattare sul prezzo vabbè ovviamente si scherza comunque non si scherza sul fatto che lo vuole vendere anche perché una volta che inizia ad avere orologi più belli non vuoi più avere queste cioffeiche ecco per il resto che dire grazie e speriamo di comprarne di nuovi presto che così faremo un altro video grande ciao 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 se il primo se la prima che tenta di vendermi una cioffeka così spudoratamente in diretta e no no grazie non sono interessato l'unico motivo per cui potrei prenderlo e per fare un favore all'umanità ed eliminarlo dalla circolazione un paio di martellate e poi lasciarlo nel contenitore dei metalli no è così lo eliminiamo dovrei spendere qualche soldo per comprarlo e fare un favore all'umanità questo è il classico esempio capital no di design ispirato se non più ad altra roba cioè veramente senza che per sé o più o meno è sta facendo quella fine lì di capita con quegli orologi fatti così tanto per commercializzare il più possibile incassare il più possibile con un design piaccione che strizza all'occhio a quelli più famosi e intanto no imbottare soldi e basta tirare a campare più che imbottare soldi non è che diventa ricchi tirano a campare galleggiano facendo queste riproduzioni no capita per il resto sito dati dei top degli orologi anche dove non ti ho dato il top erano belli orologi anche quelli è uguale no i bomber si sono belli orologi quindi niente da dire niente da dire a parte quest'ultima cosa qua che deve vendere chissà quanti soldi ci farà chissà cosa si comprerà con il ricavato di quel capital lì mamma mia va bene dai prossimo video prima che mi in albero ciao davide ciao menti ancora per il canale sono grazie nel primo video ma ho revisionato la mia collezione la volevo mostrare agli amici del canale bravo partiamo da questo seiko questo l'ho comprato giorno stesso che tu l'hai recensito ho solo sostituito il bracciale con questo cinturino originale simpatico simpatico da christopher world super compresso bellissimo grande bello mi piace un casino l'ho comprato per la sua tecnologia punto al super compresso orologio veramente veramente spettacolare sotto alla luce del sole c'è un altro cristopher world c 65 cronograph orologio da recata da come si può vedere dal quadratino a destra simpatico che pulsante a vite prado capitan cook l'orologio più comodo che ho con questo bracciale a chicchi di riso chicchi di riso bravo non poteva mancare omega speed master questo speed master con il caldo 18 63 quindi con il petro già già anteriore e posteriore bello sempre bello da 18 63 più rifiuto appassionato di subacquea non poteva mancare in top della cosa o pelagos come dicono gli inglesi per la cosa che porto a mare spettacolare pure lui simpatico per finire terremoto totale ho preso questo wright link super osia fantastico uscire avevo due domande da fare e fare le domande volevo chiederti se è corretto lasciare la corona svitato quando l'orologio non è in uso e o se totalmente inutile e cosa lo pensi del login zulu gmt grazie e ciao a tutti cosa penso del login zulu gmt ho fatto anche la video recensione la trovi lì tutto quello che ne penso penso sia un ottimo orologio che addirittura quando è uscito era molto somigliante al tagoier autavia adesso ora no dopo dopo qualche tempo che nessuno si ricorda più delta goiera autavia gmt se non sbaglio e siamo sempre a parlare dello zulu time avrebbe avuto successo avuto successo si preferisco quello del 39 anche se un polso da 19 centimetri che è uscito dopo e lo ritengo un ottimo ottimo orologio fatto bene cosa devo cosa devo dirti una volta che piace esteticamente e beh io non lo comprerei però devo dire che non lo comprerei o c'ho lo spirito solo tempo perché fa parte della famiglia spirito anche zulu time o altri login quello lì non lo comprerei non rientra tantissimo nei miei gusti come come stile come non so perché ma non mi non mi acchiappa più di altri poi l'altra domanda la corona estratta ma non lo so è in influente secondo me in influente fino a un certo punto perché esponi alle intemperie cioè all'ambiente no anche se chiuso in una scatola all'ambiente quel poco di negativo che ci può essere un ambiente circoscritto in una scatola esponi sia le guarnizioni che l'interno no non ci arriva dentro la polvere perché è un diver ce l'avrà ci avrà due guarnizioni però perché lasciarla aperta io tutti gli orologi che ho si dico la mia esperienza poi sono la hanno la loro corona chiusa o a pressione o avvitata ce l'hanno chiusa stanno lì quando si scaricano finiscono lì rimangono lì con la molla scarica anche perché se poi te per assurdo la corona la estrae quando lo riponi che è ancora carico quindi stai bloccando con il fermo macchina un movimento che è carico che è pronto per partire insomma un po di un po di in tensione praticamente tutti gli elementi sono in tensione se è carico se invece è scarico sono inerti io no io la chiudo la corona a pressione o a vite il metto lì quando è scarico è scarico poi stiamo parlando di inezia cioè in influente cose che quale quale agente distruttivo può esserci nell'aria dentro la scatola o al chiuso oppure quale fastidio gli può dare se lo lasci carico estrarre la corona sono inezia inezia io però per parer mio scarico e con la corona chiusa poi ognuno dico dite la vostra cioè non è che devo sempre dire tutto io ognuno dica la propria un saluto davide a chi sta seguendo questo video io sono claudio sono un collezionista di orologi da qualche anno già un paio di anni fa mandai un video davide ma la collezione si è ampliata quindi mamma mia qualcosina di nuovo il canale questa è la scatola dove tengo gli orologi più ancora in disordine e nel senso che sono automatici quarzo manuali un po da riordinare questo in particolare un'azzurra dell'83 fu realizzato in onore della nave che partecipò alla coppia america di quell'anno una nave italiana la prima è un cronometro da regata quindi indica gli ultimi 15 minuti prima della partenza di una regata appunto allo storia che io mega con cassa fatta a mano negli anni 30 il primo cronografo dopo il suo realizzato da eberon nel 1919 e un bellissimo gallegno 140 farò vedere in dettaglio dopo mamma mia un grandissimo passionato di bulova in particolare di acutron chiaramente tutti menziano solo questo nostro del 73 7387 con metro minerale e chicca che uso pochissimo questo space view legato esclusivamente al mercato giapponese sempre di bulova ora voglio dire tutti quelli e tutti quegli acutron lì al diapason io cioè c'è già averne uno no come io o lo gin al diapason è un po un rischio perché se gli succede qualcosa poi magari c'è anche un po da tribolare no proprio italiano tribolare a trovare chi lo sistema farlo sistemare magari costa anche con una smantrappata di calibri al diapason bulova così c'è c'è il timore che da un momento all'altro ti possa capitare una catastrofe economica se 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 ne rompono un paio un paio è che più ce ne sono più le probabilità che uno non smetta di funzionare altre no quindi va bene però non mi sembra che i problemi economici con tutti questi orologi qua una smantra una tavolata piena di orologi poi anche del 19 ma ho anche a parte questi acutron ancora due automatici decomputron riedizione moderna e 4 del 76 dell'epoca tutti i funzionanti revisionati sto qua matto altri orologi tipicamente anni 70 vedete le forme sono anche un appassionato di ebay ne ho diversi tra cui questi tre tazzi se non volete prima sera vi li farò vedere dopo e poi una scatoletta con più eterogeneità e anche qui vi farò vedere qualcosa il primo pezzo che voglio mostrarvi è un gallè degli anni 30 venus 140 il calibro completamente revisionato restaurata alla cassa il quadrante è originale in ottimo stato mamma mia mai toccato orologio che è su un piedistallo con campana di vetro normalmente perché lo tengo esclusivamente da collezione bravo l'ho usato giusto un paio di volte per il gusto di portarlo il secondo pezzo che voglio mostrarvi è un Omega Constellation Manhattan in condizioni anch'esso strepitose il bracciale come vedete non ha neanche un grafio sicuramente è stato ripristinato prima della vendita il quadrante è spettacolare spero che si possa apprezzare la lavorazione nel video lo sto usando tantissimo perché ha un'applicazione sia sportiva che elegante e con la sua dimensione 35 36 mm è perfetto un po' per qualsiasi polso soprattutto per il mio che è un 17,5 quindi ideale ce l'avevo anch'io ce l'avevo il Constellation ce l'avevo anch'io 39 ultima ultima versione quello moderno questo qua 35 poi c'ha i numeri arabi questo qua c'è i numeri romani sulla ghiera che sono neri proprio non fatti neri proprio un pugno in un occhio no? bello eh per l'amor di cielo però il mio ce l'aveva incisi erano un pochino vedo non vedo si mimetizzavano no? l'ho venduto per prendere i Cartier Santos no? sono sacrifici che devono essere fatti ogni tanto a seguire con calibro 12 un Tagore Monaco un pezzo assolutamente iconico legato al mondo delle corse al mondo delle auto lo sto usando pochissimo perché ho rivalutato molto le dimensioni degli orologi rispetto al mio polso e questo 39x39 così alto oltretutto è un bel mattone però è un orologio che in una collezione non può mancare perché è veramente icona dell'orologieria mondiale ora te dici 39x39 un mattone ti sta male anche a me anche io me lo vedo male il Monaco va bene poi ho preso il Cartier Santos che è quadrangolare e 39 anche lui per 39 39 8 39 7 qualcosa così no? non mi ricordo bene il preciso più o meno e mi sta bene mi piace perché è più smussato è più tondeggiante è più ergonomico il Tagore Monaco invece è proprio spigoloso spigoloso quadrato deve essere così eh non fraintendetemi deve essere così e va indossato così quando lo vedo nel polso degli altri dico bravo bello io non ci riesco eh oh siamo mica tutti uguali eh sempre rimanendo su orologi di forma santo scelto misura media 33x33 l'XL è sempre stato veramente troppo per il mio polso l'ho fatto lucidare per il resto calibro completamente revisionato la cassa in ottime condizioni anche questo lo uso abbastanza perché ha un'applicazione anche abbastanza sportiva e casual da tutti i giorni orologio creato inizialmente per motivazioni sportive o sia per i giocatori di polo Gigi e le cutrelle reverso io non sono un giocatore di polo quindi ho scelto un duo face quindi doppio quadrante uno volo e uno nero quindi doppio fuso orario indicazioni anti meridian e post meridian la sua applicazione nel mio caso è assolutamente elegante soprattutto con il quadrante chiaro avorio veramente un bello oggettino da avere in una collezione anche questo design eterno ma ora mi viene in mente no? c'è il doppio fuso orario GMT no? nel senso che doppio fuso orario guardi come questo qua io faccio così dico ora ecco in questo momento a New York sono le 6 e 2 minuti del mattino fa un paio d'ore e apre la borsa ok io lì per vedere il secondo fuso orario devo fare sta tan, sta tan, sta tan, girarlo sta tan, ta tan, ta tan e rimetterlo all'orario di prima è una rottura di scatoloni mi sembra oppure lo lascio a metà lo fai così lo lascio verticale così poi lo guardi di così e di così c'è due fusi orari ma si fa per dire no? lo so che è più interessante avere la complicazione così del doppio fuso che non l'utilità vera e propria dai su orologio che non ho ancora visto sul canale magari me lo sono perso ma comunque difficile da trovare cronomat regatta vedete che ha il contatore per la misurazione degli ultimi minuti prima di una regata un po' come l'azzurra che vi ho fatto vedere in anteprima l'ho trovato con il suo modulo UTCR quarto per il secondo fuso comunque per l'antimeridia e in postmeridian questo l'ho con scatola garanzia e quant'altro quindi full set completo un bel oggettino sportivo che mi godrò veramente veramente tanto ecco il secondo modulo lì il secondo fuso lì è al quarzo io lo comprendo lo accetto e anzi lo esalto un orologio meccanico no completamente meccanico poi con un modulo al quarzo per dirti la seconda il secondo fuso orario o quello che è secondo me ha senso ha senso per non appesantire troppo di meccanica un dato oggetto che porti al polso no secondo me ha senso sì no ho detto una minchiata sempre di casa Breitling aprile del 67 almeno così mi hanno detto dalle stazioni dell'archivio in Breitling Venus 188 è un top time referenza 2009 si differenzia dalla 2008 per la cassa che invece deve essere lucida è lavorata in questo caso con la lavorazione Soleil il quadrante non toccato non restaurato in nessun modo originale dell'epoca condizioni anche di questo strepitose fibbia fortunatamente trovata successivamente su ebay almeno ho fatto il completo di questo orologio che colpo veramente bello e molto sfruttabile bravo bello orologio andando invece in Giappone King Seiko prima serie con quadrante Soleil leggermente virato ma in maniera uniforme io non amo molti virati in questo caso va benissimo fibbia originale misura di 34 mm ideale come applicazione elegante penso che prenderò anche la versione acciaio perché credo che questi siano degli orologi dell'eleganza senza tempo volevo farvi vedere soprattutto la parte posteriore in oro ma assolutamente orologio non pacchiano passando invece ad un orologio dalla forma particolare un'orfina una cassard deco guardate le sfere che bella elaborazione spero che si possano apprezzare sì 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 orfina conosciuta principalmente per gli orologi di Porsche Design in questo caso è un orologio veramente elegante esiste anche in versione femminile con dimissioni chiaramente più contenute sia maschile che femminile chiaramente carica manuale questo mi è stato regalato più di un anno fa da mia moglie e per quanto riguarda i miei gusti ha azzeccato in pieno ora no un orologio di forma triangolare non si vedono è raro ci vuole un po' di audacia però si può rischiare di andare a scimmiotare il Ventura di Hamilton in qualche caso si potrebbe essere tentati di andare in quella direzione invece quando ho fatto un triangolo isoscele con l'angolo acuto verso l'interno del polso ed è particolare non voglio dire che lo comprerei che mi piace però ha senso di esistere è una una nuova interpretazione anche se è vecchio è una nuova interpretazione della forma secondo me ha senso di esistere è di essere posseduto te l'ha regalato meno male proseguendo su casse un po' particolari questo è un Amy Torn Pacer primo orologio elettrico della storia introdotto nel 57 questo è un 1961 non con caribro 500 ma col 505 un po' meno delicato non lo sto usando per la rarità del pezzo e per la delicatezza del movimento infatti ho anche rimosso la batteria ricordo che questa sia batteria che bilanciere condizioni incredibili non lo toccherò assolutamente non lo farò restaurare perché è già messo molto bene non lo uso ma utilizzo piuttosto la versione del sessantesimo anniversario qui con il bracciale originale che è un po' pesantino ma a volte un po' di pacchiano ci vuole questo mi dà meno pensieri decisamente meno 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 delicato eh certo per concludere il tritico dei tazzi onovolari la mia scatoletta con la maggior parte di Mieberhard crono 4 come vedete tutti hanno la tartarughina aperta questo è il 39 mm e mezzo il classico con calibro 77,50 se non conoscete la storia della tartaruga legata a tazza onovolari andatela a cercare qui per questioni di tempo non ve la racconterò però è una bella storiellina per quanto riguarda invece la tartaruga aperta la diatriba concertina penso che sia nota a tutti diatriba che portò oltretutto al fermo della produzione di questo modello di crontai la tartaruga aperta rarissimo perché questo 42 bar a 43 mm non ricordo con precisione fu prodotto in pochissimi esemplari penso qualche centinaio perché di lì a poco appunto certina avrebbe vinto la battaglia legale in tribunale e sempre sul 39 mm e mezzo perdo il guanto sul 39 mm e mezzo c'è questo ratrapan che è la massima espressione secondo me di tazio nuvolari quindi doppia cronometria come vedete con il terzo tasto splittiamo la lancetta di secondi possiamo rimetterla insieme blocchiamo e andiamo a azzerare e questo è veramente una chicca perché penso che sia il più bel tazio mai prodotto appunto per la doppia cronometria e per essere un prima serie di questi due quindi dei due 39 mm e mezzo anche i bracciali in realtà ne ho tre quindi uno di riserva di questo invece non credo neanche fu prodotto anche perché ha l'ansa un pochino più l'aria quindi i bracciali di questi non vanno bene questo è tutto se per caso doveste avere delle domande in metodo qualcun altro dei miei pezzi magari degli acutrono qualcosa che vedo pochissimo sul canale magari nei commenti scrivetelo a Davide qualcosa magari potrei anche rispondere io un saluto a tutti spero che vi siano piaciuti mamma mia quanti orologi quanti belli orologi guarda qua notavo nella scatola Eberhard c'è anche la scatola dedicata a Eberhard perché c'è tutti quei tazzi nuvolari lì c'era anche un traversetolo e ho visto anche tre crono 4 quelli con i contatori in linea anche quello con i contatori verticali sei veramente un collezionista proprio un collezionista diciamo la verità perché la maggior parte di questi orologi li hai per possederli per poterli ammirare studiarli contemplarli e rimembrare la storia del marchio o di quell'orologio o di quegli anni utilizzando uno strumento un oggetto qual è un orologio un pezzo di ferro un pezzo di ferro al quale ognuno di noi dà una certa interpretazione un certo valore che poi può essere finalizzato sia al possesso ed indossarlo ma anche allo studio al collezionismo vero e proprio complimenti io non so cosa dirti se avete domande scrivetele qua sotto perché l'amico qua mi sembra anche abbastanza ferrato perché anche perché ricordarsi cioè vabbè che uno si dà una rinfrescata prima di fare il video ma ricordarsi tutti i particolari anni dettagli versioni non è che è così facile il volo così va bene complimenti sei promosso mi sembra no cosa stiamo a dire vuoi un cioffè color da qualche parte ce lo inventiamo perché non ce n'è non ce n'è bravo ciao Davide un saluto a tutti gli amici del canale volevo presentare la mia collezione di orologi bravo visti dappertutto bel giocatorino questo modello si fa veramente fatica a leggere l'ora e in più sei noti la lancetta del cronografo è fuori asse quindi meglio di così non si può comunque non ho intenzione di farlo mettere a posto altro appunto perché è stato un regalo e non ho intenzione di indossarlo per quello che so io i calibri al quarzo cronografici possono essere sistemati utilizzando i tasti a destra non mi ricordo la sequenza qual è non me lo ricordo ma se te vai sull'internet sulla madre di tutte le reti cerchi spiegazioni di come resettare sfere cronografo al quarzo e ti viene spiegato devi tenere premuto oppure premere due volte uno insomma c'è una sequenza per la quale riesci ad azzerare sia la sfera dei minuti cronografici che quella dei secondi cronografici devo dire anche carino il quadrante però questa plastica qui è veramente una cosa che non si può vedere è un giocattolo dai è giocattolo va preso per quello che è passiamo al prossimo vai ecco qua Rolex Datejust da 36 mm posso dire che questo qua è stato l'orologio che mi ha fatto innamorare di questo mondo perché fino a oggi ho sempre solo indossato smartwatch apple watch e così via questo orologio qui mi è stato lasciato da mio nonno allora diciamo che un bel giorno per commemorarlo ho deciso di indossarlo durante una vacanza di due tre giorni beh devo dire che una volta tornato a casa l'apple watch è finito in un cassetto e l'ho sempre tenuto al polso e da qui è nata un po' la mia la mia passione questo modello è veramente bello appunto 36 mm quindi si può indossare con ogni indumento con qualsiasi cosa praticamente sei stato colpito da dalla soddisfazione no sei andato hai indossato tre giorni poi quando sei tornato non l'hai più tolto perché perché hai capito che ti dà soddisfazione che lo indossi con soddisfazione con piacere no è tutto lì il punto cioè è tutto psicologica la cosa non è che ti metti al polso il day just e diventi superman no è una psicologica il valore che diamo noi alle cose è come ci stanno noi e come vogliamo sentirci noi con un apple watch va bene cioè ti serve per un dato per uno specifico scopo va bene l'apple watch quello che vuoi io non ho mai indossato in vita mia non ho mai posseduto uno smart watch uno smart watch o zero 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 già odio le telefonate essere disturbato mettiamola così io voglio vivere nella mia sfera precisa equilibrata figurati se vado in giro con lo con lo con lo smart watch quando quando io sono in giro ad esempio con amici o anche quando vado da Giacomo in negozio il telefono rimane in tasca dopo quando esco dal negozio che abbiamo parlato con tutti con quello che vuoi ah però vedo che ci sono le chiamate senza risposta i messaggi le notifiche tutto quello che vuoi ma io sul momento non cago nessuno se sono impegnato a fare un'altra cosa non me ne frega niente quindi con lo smart watch e mi piace davvero tanto successivamente abbiamo un Rolex Cellini Cellini questo mi è stato lasciato da mio papà molto fine molto classico con il cinturino in coccodrillo non lo uso spesso lo tengo soprattutto come ricordo appunto del mio papà però anche questo è molto molto classico molto classico si molto classico poi ho questo Longin Master Collection bello 38.5 mm automatico questo mi piace veramente tanto infatti lo metto spesso col datario ore 6 purtroppo in video non si vede ma queste lancette che a seconda della luce variano da un nero a un blu molto acceso e anche questo lo metto spesso perché lo reputo veramente bello un'unica nota negativa ha questo tipo di aggancio che sinceramente non so come si chiami farfalla che non permette le micro regolazioni naturalmente togliendo una maglia mi va troppo stretto e rimettendola mi va leggermente largo quindi guarda questo qua essendo 38 mm essendo 38 mm essendo sottile perché il calibro sicuramente l'A31 derivato del 2892 quindi è sottile può essere indossato con soddisfazione anche con un cinturino in pelle te lo puoi far fare lo puoi comprare dove ti pare a te quello che si adatta di più è un orologio formale classico col cinturino in pelle secondo me fa un figurone poi il quadrante bianco secondo me fa un figurone 38 mm col cinturino guarda che per forza indossare il bracciale anch'io preferisco i bracciali in linea generale ultimamente però mi sto un pochino cambiando riesco ad indossare certi orologi anche con il cinturino e con piacere vedi lo speedmaster ad esempio quindi vengo un pochino largo infatti non è il massimo della comodità però mi piace particolarmente cinturino vai col cinturino lo metto vai successivamente ho questo rolex oyster perpetual da donna è un 31 mm anche questo fermi tutti oh qua che abbiamo una bella immagine in primo piano allora mai visto un orologio così brutto diciamo la verità noi do c'ho fecalert perché dietro c'è un'azienda che fa belli orologi ma non l'avevo mai visto ma sarà brutto ragazzi sto orologio aiutatemi a dire brutto mamma mia quel 3 quel 9 giganti stampati con il 6 magari in oro bianco il rilievo gli diamo la palma gli diamo la palma dell'orologio più brutto del mondo cioè diamoglia dai mi piace veramente tanto ti piace di tenerlo poi per mia figlia e ti dico che se avesse il quadrante un pochino più grosso lo terrei per me mamma mia questo quadrante qui particolare mi fa veramente impazzire oh qui abbiamo un esempio dei gusti ragazzi i gusti poco come si dice ognuno i propri gusti per me è l'orologio più brutto del mondo e per lui è l'orologio migliore del mondo cioè agli antipodi proprio giusto così è giusto così però venitemi in conto aiutatemi sostenetemi ditemi che è brutto perché io o sono sbagliato io dai è sbagliato cioè per me è brutto dai è brutto lo reputo veramente bellissimo bellissimo basta è bellissimo molto bello molto bello basta classico Rolex ma non più grande che magari non si vede sempre non si vede sempre c'è un motivo ok adesso passo diciamo gli orologi che ho comprato io perché finora gli altri mi erano stati appunto donati o regalati sono buoni tutti questo è un tisso Sistar 1000 cronografo certo ci piace è al quarzo devo dire questo l'ho comprato quando ancora non sapevo nulla di orologi non sapevo la differenza fra un orologio al quarzo un orologio automatico ci sta ci sta e quindi sono andato proprio emozione e sentimento senza sapere nulla hai fatto bene mi piace questo verde questa tonalità appunto che anche poteva andarti peggio cioè senza sapere né leggere né scrivere tipo potevi comprare anche un un Giorgio Armani al quarzo per dire no almeno qui a seconda della luce della luce del sole assumono una tonalità diversa però mostringiamo perché non è che possiamo stare purtroppo è mea al quarzo io una volta che ho scoperto appunto il mondo degli orologi penso di prendere solo automatici bravo però diciamo questo lo tengo perché appunto mi ricorda diciamo da dove sono partito con questa bellissima passione hai fatto bene sono partito quindi dal Tissot e questo è stato l'ultimo acquisto di settimana scorsa bravo un Tudor Black Bay da 41 mm ghiera rossa preso appunto settimana scorsa in concessionario bello ci piace questo orologio è in assoluto il mio preferito mi fa veramente impazzire da quando passando lo vedevo tutti i giorni in vetrina ho pensato di voglierlo acquistare cioè per lì mi piace veramente veramente tanto infatti per adesso lui è sempre 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 a mio polso bravo poi e poi ti volevo far vedere anche questo anche questo apparteneva al mio papà non ho idea di chi orologio sia sono andato anche a cercare su internet ma non so bene questa marca questa cosa era un quarzo io non l'ho aperto naturalmente non funziona non va è un ricordo anche questo di mio papà ma non non conosco la marca né nulla scusa ora rimetto l'immagine lo vedi che praticamente quello lì è un orologio con due calibri al quarzo dentro c'ha una corona a sinistra e una corona a destra due quadranti dual time e con due calibrini al quarto che stanno dentro il quadrante che saranno due noccioline così simpatico utile magari perché avere un dual time così al volo uno che ha veramente bisogno di un orologio o strumento che gli dica due al volo e li vedi così con due quadrantini con l'orario lo vedi perfettamente però saranno due due calibrini così al quarto come ultimo volevo farti vedere anche questo qua che mi è stato regalato non so se va dritto tra le ciofeche o meno più o meno sì è un automatico è della Kienzle Kienzle non so magari mi aiuti tu a capire che marca sia se buona o meno diciamo che mi fa è simpatico mi dici tu perché ha le ore hai le ore scusa i giorni della settimana in italiano quindi è abbastanza simpatico e basta questa è la mia collezione ti ringrazio e complimenti ancora per la passione che metti nel raccontare gli orologi e che riesci a trasmettere a tutti ciao ciao grazie 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 ora non lo so forse ho sbagliato tra le ciofeche non lo so non me lo ricordo se non mi sbaglio Kienzle è uno di quei marchi un po' molto decaduti che attualmente non fa altro che incassare dei calibri cinesi che di per sé non c'è niente di male però sono veramente di bassa qualità generale come come tutto come rifiniture cassa calibri si tende a risparmio insomma orologi di bassa lega diciamo così poi per il resto c'è il Tudor Black Bay che è proprio veramente la punta di amante secondo me ma anche il Longin Master Collection non è male ripeto mettici il suo bel cinturino e vedrai che va alla grande diversifichi anche un po' c'è il Black Bay braccialato sportivo quell'altro già che ci sei farlo completamente formale col cinturino diventa formale uno due pesi due misure non si dovrebbe dire in questo caso però vabbè siamo capiti due oggetti differenti dai sei promosso ti promuovo anche perché sei un neo appassionato e fa piacere vedere quando le persone scoprono perché non è che è una dottrina cioè o ce l'hai dentro che sei che la passione per la meccanica per l'orologeria per questi oggetti che segnano il tempo o non ce l'hai quindi nel momento in cui ti guardi intorno e ti viene la scintillina dici ma vuol dire che ce l'avevi già che l'hai scoperta solamente capito io ragazzi ora basta vado a vedere i gattini su Instagram perché è stata lunga sta puntata non si è vide vado a vedere i gattini su Instagram dai non c'è più voglia vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video il video il presentatore l'orologio del presentatore e il contesto del presentatore e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love e non mi resta